Ciao a tutti da Streamar2.com, quest'oggi andiamo a fare un rapido video unboxing della nuova GeForce GTX 1070, una scheda video Nvidia caratterizzata dall'architettura Pascal che si va a posizionare nella fascia alta del mercato. Partiamo dall'analisi della confezione che come possiamo vedere nella parte frontale presenta solamente il logo dell'azienda e il nome del prodotto stesso. Nella parte posteriore invece troviamo solamente il riferimento al sito web dell'azienda e alcuni riferimenti dell'azienda stessa come l'indirizzo della sede legale con sede a Santa Clara. La confezione si apre dall'alto in questo modo e come possiamo vedere troviamo ovviamente la scheda video. Non sono compresi accessori in bundle con questo prodotto e troviamo solamente la scheda video nuda e cruda. Come possiamo vedere la scheda video in questione è una reference, quindi dotata di un dissipatore a turbina capace di convogliare aria fresca tramite questa ventola e espelle l'aria calda che passerà attraverso questo radiatore fuori dal case. Quindi è un design molto utile se abbiamo un case di piccole dimensioni. Allora come possiamo vedere la scheda video ripercorre l'ultimo design comunque di Nvidia per quanto riguarda le schede video reference. Abbiamo una scocca in metallo con una piccola parte in plexiglass per permetterci di osservare l'aliatore sottostante. Abbiamo questa piccola ventola da circa 70 mm capace di convogliare l'aria come abbiamo detto all'interno del dissipatore stesso ed espellerà al di fuori del case. Abbiamo il logo Nvidia stampato sulla scocca, scocca in colorazione grigia e nera e inoltre il logo GTX 1070 cromato. Per quanto riguarda invece la parte superiore, come possiamo vedere abbiamo il logo GeForce GTX che si illuminerà di verde quando la scheda video sarà in funzione e abbiamo l'unico connettore di alimentazione 8 pin in quanto l'architettura Pascal ha permesso di ridurre il consumo anche per schede video di fascia alta in quanto adesso sono richiesti solo un connettore alimentazione ausiliario. Inoltre abbiamo due connettori per mettere più schede video in parallelo fino a un totale di 4 in quanto sono due. Sarà invece solamente un connettore massimo due schede video in parallelo. Per quanto riguarda invece la parte inferiore abbiamo il connettore PCI 3.0 e null'altro. Per la parte posteriore invece troviamo il prolungamento della scocca in metallo con questi tre piccoli fori e ritrostante nella parte retro della scheda video troviamo questo backplate in plastica con logo Nvidia e nome del prodotto stampati sullo stesso. Abbiamo 4 viti che tengono insieme il dissipatore al PCB insieme al backplate, non sono presenti i bollini di garanzia quindi in teoria potremmo cambiare pasta termica, montare waterblock senza perdere la garanzia. E in ultimo vediamo i connettori di audio video dove abbiamo una DVI, tre display porte e un HDMI. Per questo video unboxing possiamo dire che è davvero tutto, vi lasciamo le specifiche tecniche della scheda video che sono 1920 Kuda Cores per quanto riguarda il core. Abbiamo un clock base del core sempre di 1506 MHz, invece il boost clock arriva addirittura a 1683 MHz. Abbiamo 8 GB di memoria RAM GDDR5 e una banda teorica di 256 GB al secondo, l'interfaccia di memoria 256 bit. Supporta tutte le ultime tecnologie Nvidia come G-Sync, Sly, Ancel, VR Ready eccetera e si va a posizionare su una fascia di prezzo davvero alta che va dai 400 ai 500 euro. Quindi per questo video è davvero tutto, vi rimandiamo alla recensione scritta di questa scheda video che troverete sul nostro sito web, istrimuardo.com, dallo staff di Istrimuardo un saluto e al prossimo video unboxing. Ciao! Ciao!